Novità importanti, il progetto di Elon Musk spaventa il governo e i grandi gruppi bancari. Musk, infatti, ha ideato un nuovo sistema di investimenti segreto che ha già reso centinaia di persone molto ricche. La scorsa settimana è apparso in pubblico e ha annunciato il suo nuovo progetto, che secondo lui può trasformare chiunque in un milionario nel giro di tre o quattro mesi, senza alcuna difficoltà o investimenti enormi. L'inventore e imprenditore ha esortato tutti a sfruttare questa straordinaria opportunità. Naturalmente, pochi minuti dopo il termine dell'intervista, il governo ha chiamato per chiedere di non mandare in onda l'intervista, ma era già troppo tardi. Ve ne parlerò tra un attimo. Innanzitutto, lasciate che mi presenti. Come ho detto, sono il fondatore e amministratore delegato di Tesla Investments, proprietario dell'universo Twitter, di OpenAI e di SpaceX. Il mio nuovo progetto sarà disponibile per i cittadini italiani solo per un periodo di tempo limitato. Abbiamo sviluppato un software veramente potente. È una prima mondiale. Ho speso 5 miliardi di dollari in due anni per svilupparlo. Ma cos'è che fa? Beh, lasciate che vi chieda. Cosa fa girare il mondo? Giusto, i soldi danno forma alle nostre vite, spostano le montagne e cambiano il mondo. Quindi è meglio iniziare a implementare un'informatica potente che accanirsi sull'accumulo di denaro in sé. Questo software fa trading sulle azioni e lo fa così bene che riesce nelle operazioni con una percentuale del 98%. Il 98% non lascia praticamente dubbi. Questo potente dispositivo di calcolo non ha nulla a che vedere con un comune personal computer. Analizza i dati in modo 10.000 volte più veloce, più intelligente e più efficiente di qualsiasi comune computer oggi sul mercato. Ma perché l'ho costruito? Per nessun altro motivo che quello di permettere alla gente di cambiare la sua situazione finanziaria e di realizzare i suoi sogni. Penso sia un buon modo di avere un impatto positivo su questo mondo. Credo che questo software possa contribuire a eliminare uno tra i problemi più dolorosi e duri. La povertà può realmente aiutare le persone. Innanzitutto devo provare che funziona. I numeri sono la maniera più semplice di provare qualcosa. Se riesco a provare che funziona, potrò portarlo ovunque. Volete iniziare? Cosa aspettate? Potresti arrivare a guadagnare 5,700 euro già il primo giorno. Può essere anche molto di più. Si effettua un piccolo deposito nell'algoritmo e questo inizia automaticamente ad aumentare. Tutto rimane sotto il vostro controllo. Durante il giorno non dovrete fare altro che stare a guardare mentre i vostri profitti si moltiplicano.